Musica Presentata l'offerta turistica 2023 del Comune di Camerano, fra mare, turismo sostenibile, cultura e grotte. Il modello Camerano propone una molteplicità di esperienze turistiche, passeggiate nel Parco del Conero, percorsi ciclabili, enogastronomia, arte, tutti fattori che fanno sì che la città possa proporsi come meta turistica slow con una forte vocazione alla sostenibilità e che negli anni si sia posizionata al quinto posto per presenze turistiche tra i Comuni non rivieraschi. Stiamo cercando di sfruttare le peculiarità del nostro territorio che si possono riassumere in due caratteristiche principali. Uno, la presenza delle grotte di Camerano, che non me ne vogliono i paesi vicini, sono sicuramente le più belle grotte di origine non naturale della regione Marche. Secondo, il Rosso Conero. Camerano è il cuore del Rosso Conero e sicuramente i turisti vengono da noi anche per questo. Accanto a queste due eccellenze c'è un programma culturale molto ricco che appunto prevede mostre, inaugurazioni, presentazioni di libri e quindi teniamo molto alla nostra storia soprattutto culturale e imprenditoriale. D'altra parte abbiamo il più grande pittore del Seicento che è Carlo Maratti, che è originario del nostro paese e su questo noi puntiamo moltissimo. In particolare quest'anno i riflettori sono puntati sulle grotte di Camerano anche grazie al progetto Underground for Value che avete presentato pochissimo tempo fa. Sì, sicuramente le grotte sono un'eccellenza. Non sono ancora completamente aperte perché alcune parti bisogna finire di metterle in sicurezza ma già un giro ordinario delle grotte richiede circa un'ora quindi è un tempo credo sufficiente. Sono divise in diverse sezioni e abbiamo una grandissima richiesta quindi sicuramente sono una cosa apprezzata. In più abbiamo previsto l'accesso per i disabili. Quindi abbiamo un montascale che permette anche ai disabili che non hanno capacità di deambulare di visitare alcune parti delle grotte. Questo è un segno di apertura anche alle persone svantaggiate. Otto gli eventi che si svolgeranno nelle grotte. Il sistema ipogeo costruito dall'uomo è vera e propria perla del territorio, la cui gestione è stata affidata ad aprile alla Cooperativa Sociale Opera con l'obiettivo di superare i 25.000 visitatori del periodo prepandemico. Oltre alla gestione dei servizi ordinari che sono in particolare la gestione dello IAT, la gestione delle visite guidate in grotta abbiamo anche l'opportunità, abbiamo completato la nostra offerta con il supporto all'amministrazione comunale nell'organizzazione di eventi culturali e turistici sia nella stagione estiva ma anche nelle stagioni autunnali e invernali con una nostra propria programmazione. In particolare nel periodo luglio e agosto implementeremo queste visite tradizionali con delle nostre specificità. In particolare nel mese di agosto, tutti i giovedì, implementeremo al termine della visita una degustazione dei prodotti tipici, in particolare il vino che è caratteristica del comune e in più faremo delle visite tematiche sempre inerente alle grotte ma parlando di alcune specificità dell'utilizzo delle grotte in vari contesti storici, dalle grotte nel periodo della guerra oppure i simbolismi delle grotte che si ritrovano nella visita ed altro. Grazie a tutti, grazie a tutti.